Oggi raga siamo qua per fare uno scherzo epico però questa volta non a mia sorella, bensì a tutte le persone che ha tra la lista amici Perché sì raga guardate cosa succede se vado qua, guardate raga, guardate quanta cavolo di gente ha tra gli amici Ha addirittura 700 richieste, cioè raga gliene mandate veramente in tantissimi E questa volta cosa ho deciso di fare? Prenderò appunto una persona a caso tra tutti gli amici che ha Ovviamente raga cercherò di prendere qualche suo fan, qualche persona che appunto mi conosce anche a me Sperando appunto che io capiti con una persona che mi conosce A quel punto cosa farò? Gli farò qualche domanda tipo conosci Zerbian, ti piace, come fai i video, robe del genere E ragazzi se sarà un mio fan a fine partita mi smutirò e vedremo la sua reazione quando capirà che in realtà sono io e che non è mia sorella Quindi ragazzi diciamo anche questa qui più che altro sarà una specie di sorpresa ai suoi amici Quindi raga spero che questo tipo di video vi piaccia mi raccomando se è così cerchiamo di superare i 10.000 like per un prossimo video di questo tipo Ragazzi una cosa che non vi ho detto al volo è che io cambierò voce, userò un programma che me la cambia, il solito diciamo Ovviamente andatemi tutti a seguire su Instagram, ci sarà il mio link sotto in descrizione, andate anche tutti a seguire mia sorella Ci sarà sempre il suo link sotto in descrizione Ho anche soltanto 7.000 iscritti per arrivare ai 250.000 e fare il contest più bello di tutto il canale quindi mi raccomando iscrivetevi E niente ragazzi dato questo andiamo subitissimo a cercare qualcuno Ok ragazzi sentite la mia voce, sentite che voce ho una voce stra realistica Ora però andremo ad invitare un pochino di persone qui nella nostra lobby degli amici Ragazzi vediamo un pochino tra di loro chi è che entra, invitiamo un sex galaxy, invitiamo 3SL fra Ciao Sara Ciao Eh no guarda non sono Sara, lei è andata a fare merenda, sono un suo compogno di classe perché mi ha invitato cosa sua Volevo un pochino giocare, va bene se ci facciamo una partita? Sì sì ok ok va bene Perfetto perfetto, andiamo in partita, vado un secondo a bere e arrivo ok? Vado un attimo a bere Aspetta un attimo Ok bro ci siamo, dove vogliamo andare? Andiamo a fattoria? Che dici va bene? Sì sì va bene Ok perfetto, posso farti una domanda bro visto che sono un po' curioso Ma tu com'è che fai a conoscere Sara? Cioè come fai a conoscere Zerbian Sister? Sì 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 come fai a conoscerla? Eh la conosco perché seguo molto suo fratello su YouTube e mi piace molto Ah segui Zerbian, no bro anche a me piace un botto ti giuro Mamma mia, è il mio YouTuber preferito fra il mio YouTuber preferito Ma tu hai qualche contatto con lui qualcosa? No proprio zero, ma io guardo i suoi video, mi piacciono un sacco Eh anche a me, a me piacerebbe conoscerlo anche a te Pure a me, pure a me Perché fra ti, dai ti dico la verità, ti dico la verità Sai che bello Eh lo so infatti ti dico la verità Io bro ho il suo numero di telefono però ci parlo poco in realtà Però ho il suo numero e non sto scherzando Veramente? Eh fra una volta lei mi si era visto per sbaglio così, così l'ho preso Però ti dico una cosa Cavolo Facciamo così adesso se noi facciamo una partita Mi fai fare una vittoria reale Così faccio una sorpresa a Sara, la sorella di Zerbian Sara sarà contenta Quindi io manderò un messaggio appunto a Zerbian Sarà il leader di rispondermi Così potremo avere i suoi saluti, va bene? Però dobbiamo assolutamente fare una... Allora vinciamo bro Sì, fra per forza Ci impegniamo, ci impegniamo O impegnati anche tu Perché adesso faccio una mega sorpresa alla sorella di Zerbian Che lei ha poche vittorie Quindi per forza Perché faremo felice anche lei Quindi dobbiamo per forza Esatto, esatto bro Se fa felice Sara Sicuramente poi chiama anche il suo fratello Quindi dai, dai bro Ce la dobbiamo fare Ce la dobbiamo fare vincere Dai dai che gli faccio anche una bella sorpresa Allora Hai un pompa Anch'io c'ho un pompa Però sai se c'è qualcuno? Ok Io invece ho un pompa e un assalto anch'io Perfetto Va bene, va bene, tranquillo Ci sono degli shieldini lì fuori Le prendo le C4 Oh mi sparano, mi sparano, mi sparano Attento bro che ho poca vita io Lo vedo, lo vedo Gli sparo, gli sparo Quanta vita hai? 29 bianco bro Perfetto, perfetto Lo pusho, lo pusho, lo pusho Dovrebbe essere qui dove sono io Dovrebbe essere qui dove sono io Aspetta 4, aspetta, aspetta Dovrebbe avere poca vita Fra Dai 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 No 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 Ho finito questo Non ci posso credere Ha poca vita Fra, ha poca vita Dai dai che ce la fai Sì Come l'ho ucciso Bro Ci sono, ci sono Perfetto, perfetto, perfetto Ti resto, ti resto Uh Ce l'abbiamo giocata bene Ce l'abbiamo giocata bene Fra Dai 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 Ce la possiamo fare a fare questa vittoria Davvero un saluto di Zerbia Ce la possiamo fare Perfetto, è shieldini Perfetto, perfetto, perfetto bro Mi prendo il tattico che spara più veloce Va bene, va bene, va bene Io sto prendendo anche un pochino di roba Dai dai, ci sta, ci sta, ci sta Pure un medico Perfetto E hai degli shieldini per caso? Eh, li ho visti lì fuori, qua fuori Ok, aspetta un secondo che li vado a prendere intanto Vediamo se li trovo Ecco Ok, eccoli qua Perfetto, perfetto, perfetto Tieni degli shieldini, prenditeli Grazie Ok Dai che ce la facciamo Dai sì, sì Ce la facciamo, ce la facciamo E riceveremo questi saluti, forza Ma bro, tu come la conosci Sara? Eh, io Sara la conosco Perché sono un suo compagno di classe Oggi mi aveva invitato a cosa sua Così sai cosa succede? Adesso io faccio la vittoria E glielo dico Sara lo dice a suo fratello E se Sara lo dice a suo fratello Noi riceviamo appunto i saluti Per quello che stiamo facendo la vittoria Hai capito? E questo, è questo quello che dobbiamo fare Infelio come non mi sono mai impegnato In vita mia Vai, vai, vai Per i saluti di Zerby Anche se da Oh, gente la mantieni qua Qua, 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 qua Ma questo figlio non ci sparava Vai, vai, attento, attento Lo sto pushando io, eh Mi faccio degli shieldini, bro Adesso io tiro alle C4 Se riesco Ok Oh, oh, l'ho colpito, l'ho colpito Vai, tira alle C4 e fai cadere tutto Vai, vai, vai Sotto, sotto, sotto Fai cadere tutto Ho preso danno, ho preso danno Ho preso danno Ok, l'ho visto qui, è qui, è qui, è qui Aspetta, aspetta, aspetta Vai Boom, boom Morto Dai, bravo, dai Dai che prendiamo questi saluti di Zerby Dai, dai Dai, dai, dai Ce la possiamo fare, ce la possiamo fare Forza, forza, forza Dai, dai, dai Stiamo giocando bene, bro Sì, sì, sì Sì, assolutamente Questa figlia era bravo Questa figlia Eh, infatti, infatti Ha iniziato a filtare Ha iniziato a fare di tutto e di più Buono, buono, buono Ok, bro, siamo rimasti Siamo rimasti in 33 Ce la possiamo fare Mancano soltanto 31 persone E poi vinceremo Dobbiamo giocarcela anche Eh, lo so Dobbiamo giocarcela di strategia Per esempio, secondo me potremmo andare Non so, verso l'agenzia Che magari ci va a tanta gente Prendiamo armi buone Non lo so Tu, tu, cosa dici? Io dico Sì, per me va bene, va bene Va bene, perfetto Allora andiamo, andiamo Avviamoci verso l'agenzia, vieni Se troviamo gente Cerchiamo di stare uniti Così ce li facciamo Va bene, va bene, va bene Mi raccomando, bro Se vedi gente, dimmelo Perché io non voglio morire così a caso Ecco, ecco Mi stanno sparando Mi stanno sparando Oh mio Dio Fran, non ho capito da dove Però, aspetta un attimo Che mi devo curare Ah, ho sparato per me Ok, li vedo Dove sono, dove sono Oh, ok, li ho visti Fran, adesso li distruggiamo Impegniamoci Concentrazione al massimo L'ho colpito, l'ho colpito No, in realtà non è vero Ok, c'è l'altro Ok, l'altro Ok, attento, attento Perfetto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto Copriamoci tutti Ok, aspetta che ho visto l'altro Ho visto anche l'altro io Oh, l'altro, l'altro Colpito, colpito Bianco, 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 bianco Quello lì Pusciamo, pusciamo C'è l'altro che sparano Anche a me mi sparano Oh, cavolo Ma sono bravi questi Eh, non sono scazzi infatti Ok, aspetta Fra, gli sto lanciando le granate Puscia No, mi lanciano le C4 Ok, 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 ok Arrivo, arrivo io, arrivo io Colpito, colpito Da dietro, da dietro Attenzione, attenzione No, mi sto pushando Ce ne sono altri che cecchilano Bro, porca miseria Piano di gente, pieno di gente Ce ne sono altri che sparano Mi stanno sparando sotto Aiuto, aiuto C4, C4, C4 Colpito, colpito 40, 40 Mi ho fatto 40 di danno No, cavolo Oh, uno è morto Uno è morto Fra, uno è morto Vai tranquillo, vai tranquillo Ci penso io, ci penso io Ce la posso fare, ce la posso fare Voglio questo saluto, ti prego Va, va, ce la faccio, ce la faccio Non preoccuparti Dov'è, dove l'altro però? Eh, mi ha ucciso sulla scheda Sulla scheda Sulla scheda, ok Potrebbe essere qui Qua dentro, qua dentro sicuramente Fra E invece C'è lo scudo No, magari qualcuno l'ha ucciso, eh Ah, potrebbe essere No, invece no, invece no Provo a farmi lo shieldone a tutti i costi Vero se riesco Orca miseria Fra, 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 fra Buttissima situazione Buttissima situazione Aiuto, 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 aiuto Non so se ce lo riesco Non so se ce lo riesco Prova a curarti Provo a fare di tutto, bro Ci provo, fra, ci provo No, quanto sfamano questi Siamo morti, bro Siamo morti Torna al lobby, fra Torna al lobby Che ti devo dire una cosa Veramente importantissima Porca miseria Come cavolo abbiamo fatto A morire in questo modo Bro, io volevo i saluti di Zerbian No, però No, non ci posso credere Non ci posso credere Voleci qua Io ti ho detto Con il suo numero di telefono Facciamo una cosa Provo a farti due domande Fra Vedo, vedo Come possiamo stupirlo Zerbian in qualche modo Fra Una cosa originale Che possiamo usare per stupirlo Qual è? Una cosa originale Non lo so Possiamo mandargli la foto Che usiamo sul codice creatore? Che dici? Sì, possiamo provare Possiamo provare Fra, mettiamo il codice Zerbian Nello shop di Fortnite Eh, quanta gente gli iscrive Però Eh, lo so Fra, sarà veramente molto difficile Farci rispondere Lo so Secondo me potrebbe anche essere Quasi impossibile Sara, non lo so Sara, dici sua sorella? Eh, aspetta Aspetta Non lo so, Fra, non lo so Aspetta un secondo Va, facciamo una cosa Aspetta un attimo che mi smuto Aspetta, aspetta, aspetta Ok Bro Ma Bro? Bro Ma sei Zerbian? Sì! Oh mio Dio No, no Mi pazzisco Oddio, oddio Oddio, bro Ma sei davvero tu? Sì, Fra Sono io Ti stavo trollando Sto registrando, eh Oh mio Dio Non ci credo, bro Fra Sto registrando E sai che Apparerà anche sul mio canale Lo sai? Oddio Ma infatti Io dicevo Era pure forte Infatti Ma più che altro Sai cosa? È strano Secondo te Mia sorella Va a fare merenda E mi invita a casa sua E mi lascia a casa da solo Cioè è un po' strana questa cosa Non lo so Ma tu da quanto tempo è che ce l'hai tra gli amici, mia sorella? Eh, da un bel po' Eh Non hai mai avuto la possibilità di giocare Però non riesco manco a parlare Oh, che codice bisogna usare nello shop? Zerpi, ovviamente Eh, bravo Codice Zerpi nello shop di Fortnite Esattamente Vuoi dire qualcosa al video prima di finirlo? Eh, non lo so Non riesco manco a parlare in realtà Oddio Vabbè, bro Allora Puoi salutare i miei iscritti Di una cosa Di a tutti di usare il codice Zerpi, ovviamente Ragazzi Tutti i codici Zerpi nello shop Usate il codice Zerpi, ovviamente Perché Fa pure queste sorprese agli iscritti Esatto, ragazzi Miglior codice di tutti Cosa importantissima, ragazzi Arriviamo ai 250.000 iscritti Perché a quella soglia fare un contest epico Il più bello di tutto il canale Mancano soltanto 7.000 iscritti Cosa importantissima, ragazzi La più importante di tutti Ancora più importante di questa Correte a seguirmi su Instagram Perché esattamente il 27 marzo Finirà il contest, ragazzi Ci saranno un sacco di premi per tutti voi Un sacco di skin Un sacco di roba Quindi mi raccomando Link in descrizione Correte Tutti a seguirmi Ovviamente seguite anche mia sorella Dal link sotto in descrizione Perché, raga, dai Facciamogli questo favore Per averci fatto usare questo account Ovviamente Come l'abbiamo già detto Un bot di volte Il codice Zerpi Nello shop E' detto questo, ragazzi Noi ci vediamo Un prossimo video Bella ragazza, ciao Asco Ciao a tutti Ciao a tutti Ciao a tutti